Segneranno il ritorno del centrodestra di stampo berlusconiano. Sanciranno la fine della segreteria di Matteo Renzi o daranno l'avviso di sfratto firmato M5S? Per capire in anticipo, cosa diranno le elezioni regionali Sicilia 2017 ci si affida soprattutto ai sondaggi, ma anche l'ultima rilevazione dell'istituto Demopolis per il giornale di Sicilia, mette in chiaro che lo scenario a pochi giorni dal voto resta nebuloso. In vantaggio, in ogni caso, con il 35% è nello Musumeici, candidato dell'area di centrodestra. Questi, però, non può dormire sonni tranquilli dal momento che il grillino Giancarlo Cancelleri si è fatto sotto con il 33% dei voti degli intervistati. Più indietro, con il 22% delle indicazioni, troviamo Fabrizio Micari in rappresentanza del centro-sinistra, mentre il candidato della sinistra pura, Roberto Fava, non riesce a raccogliere più del 9%. Questi dati sono lo specchio della realtà siciliana.